Ciao a tutti amici, oggi parliamo di correlazione. Nello specifico andremo ad analizzare gli andamenti di Bitcoin, Standard & Poor's 500, Nasdaq e un ETF basato sull'oro. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso degli script Python in uno Upyther notebook. Quindi mettiamo insieme un po' un tutorial di Python, dei concetti di finanza e di studio appunto della correlazione e anche un po' di analisi del prezzo delle criptovalute. Iniziamo però a introdurre il concetto principale di questo video, ovvero la correlazione. La correlazione non è altro che il confronto fra due variabili per capire quanto l'andamento dell'una segue l'andamento dell'altra. Naturalmente ci sono due estremi che sono più 1 e meno 1. Quando il coefficiente di correlazione corrisponde a più 1 significa che le due variabili viaggiano sostanzialmente allo stesso modo. Quando è 0 significa che viaggiano in modo indipendente e quando è meno 1 invece significa che seguono sostanzialmente dei versi esattamente opposti. Naturalmente ci sono tutti i gradienti intermedi per capire se sono più o meno correlati. Ad esempio una correlazione si intende fortemente correlata comunque quando il coefficiente è maggiore di 0,8 o minore di meno 0,8. Quindi perché è così importante andare a studiare la correlazione? Proprio perché quando noi andiamo a comporre un portafoglio di investimento è stato dimostrato che le performance del portafoglio sono tanto maggiori quanto più sono scorrelati gli asset che andranno a comporlo. E questo si può vedere dal grafico che vi ho riportato. Se investiamo solo in asset che sono correlati tra loro qualunque rischio che influenza un asset in realtà li influenza tutti e quindi il nostro portafoglio seguirà sostanzialmente lo stesso andamento. Se invece investiamo in asset decorrelati tra loro magari quando uno degli nostri investimenti perde valore l'altro può recuperare e compensare le perdite fondamentalmente o addirittura ribilanciare a rialzo tutto il nostro portafoglio. Dopo aver fatto tutte le premesse possiamo prepararci a eseguire il codice. Nella prima parte andremo a importare tutte le librerie necessarie e vi indico anche quali sono i package python da installare per poter eseguire il codice che vi presento. Quindi le importiamo, ci andiamo a scaricare i dati, quindi in questo caso vedete che inserisco gli indici del bitcoin contro dollaro, standard and pours, nasdaq e oro. Andiamo a preparare i dati, sostanzialmente elimino le righe vuote e poi vado a rinominare le colonne. Qui abbiamo tutto lo storico prezzi, stampo solo i primi 5 giorni, in questo caso solo per vedere che comunque ha avuto effetto la mia operazione. E in primo luogo andiamo a stampare lo scatter matrix plot. Questo ci dà un'idea grafica di come sono le correlazioni. Partiamo a vedere ad esempio come si comporta il nasdaq contro lo standard and pours. Vedete che disegna praticamente una linea diagonale all'interno di un quadrato, quindi vediamo già graficamente che in realtà c'è un'alta correlazione fra questi due mercati. Si muovono praticamente quasi allo stesso modo. Cosa un po' diversa se invece andiamo a vedere il bitcoin contro lo standard and pours. Infatti vedete come varia il prezzo di bitcoin sull'asse verticale rispetto al prezzo di standard and pours sull'asse orizzontale. Vedete che segue quasi una linea diagonale, però ci sono dei momenti in cui vi è un alto discostamento. Ad esempio si può vedere che in questo momento, che è più o meno quando c'è stato il picco di bitcoin del 2017, a un dato valore dello standard and pours, il prezzo di bitcoin ha avuto un valore che è compreso sostanzialmente fra i 5.000 dollari fino ad arrivare al suo picco storico, che è quello di quasi 20.000. Ora andiamo a proseguire le analisi e andiamo a vedere più in concreto a quanto corrisponde il coefficiente di correlazione fra bitcoin e gli altri tre mercati. Ci spostiamo, qui ci sono le celle che vanno a spiegare quanto vi ho detto prima. Potete anche cliccare se volete andare a leggere le fonti. E qui c'è la prima parte dell'analisi. Quindi andiamo a vedere l'evoluzione della correlazione anno per anno dal 2015 a oggi. Andiamo a eseguire questa cella e stampiamo questo grafico. Quindi vedete che ogni linea rappresenta l'andamento della correlazione anno per anno del bitcoin rispetto ai mercati che comunque sono sempre l'oro, Standard & Poor's e Nasdaq. Vediamo che ad esempio nel 2015 l'oro era addirittura decorrelato rispetto al prezzo del bitcoin per poi andare a crescere negli anni dal 2016, 2017, 2018 fino al 2020 per raggiungere quasi lo 0.8. Quindi possiamo dire che in questo momento il valore dell'oro e del bitcoin sono abbastanza correlati. Addirittura quasi oltre la soglia critica di 0.8 per considerare un andamento fortemente correlato. Per quanto riguarda invece Standard & Poor's e Nasdaq che più o meno seguono lo stesso andamento anche se poi col Nasdaq vediamo che in realtà è molto più correlato. Vediamo che nel 2015 avevamo una correlazione scarsa o moderatamente correlata. per poi salire nel 2016-2017 oltre la soglia dello 0.8 e poi calare drasticamente nel 2018 dove si è raggiunta una scorrelazione netta. E poi vediamo che negli ultimi anni 2019-2020 si è risuperata la soglia critica dello 0.8. Però facciamo un'altra analisi. Vediamo nell'ultimo anno invece, che comunque sappiamo che è un anno abbastanza particolare, come si sta comportando il bitcoin rispetto a questi mercati. Questo lo vediamo eseguendo l'ultima cella. Innanzitutto vediamo che mediamente dal 2015 abbiamo un'alta correlazione per quanto riguarda bitcoin rispetto ai mercati Standard & Poor's e Nasdaq. Però vediamo, allora, nell'ultimo anno sempre un coefficiente alto di correlazione. Per poi però andare a scalare più andiamo a ridurre questo offset temporale. Quindi negli ultimi sei mesi vediamo che si abbassa, negli ultimi tre mesi una correlazione molto debole e poi nell'ultimo mese addirittura siamo in zona 0. Quindi possiamo dire che nell'ultimo mese il bitcoin sta avendo un andamento scorrelato rispetto ai mercati. Quindi per ricapitolare possiamo avere la conferma che ha senso tenere bitcoin in portafoglio se questo trend di correlazione rispetto ai mercati principali continua a proseguire. Tuttavia abbiamo anche la conferma che la correlazione e scorrelazione di bitcoin rispetto a questi mercati non è costante nel tempo ma varia anche radicalmente di anno in anno. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere se questi tipi di contenuti che sono a metà, diciamo, fra la condivisione di codice python e però anche delle analisi economiche vi possono interessare. Grazie mille a tutti. Un saluto a tutti da Valerio. Grazie mille a tutti.